sciogli le braccia, sciogli le braccia a Gallo Rosso, gruppo studio di Roma, vinta, luta in Pescioli sciogli, sciogli Davide ci fa ci fa Davide, ci fa lo sai vero cosa ho detto prima? sei pronto? calma bene deciso ma sai cosa vuoi fare? sai cosa vuoi fare? hai visto? hai visto cosa vuoi fare? hai visto eh? devo portarti giù Davide, stai attento tieni le mani alte e stai attento continua a mettere giunti Davide, bravo non gli darei molto di fare quello più buono il best Davide esti, vattene tira Davide, tira esci, esci, sprolla sprolla, sprolla gira qua via dai Davide, dai gira forza, forza domina non venere giro non ti fare il prego fai il peso, fai il peso con le gambe se lui prende le gambe anche bene forza ancora esci dall'angolo con il campo sentite le chiave dagli il peso alle gambe lavora Davide, prendi la faccia e tira prendi la faccia e tira su il mento tirali su quel mento gira forza dai dai gamba bene schiaccia il peso bravo rimetti di più bene bene e prendi il mento giraglio 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 dai sempre il peso sulle gambe ricorda puro contro dai il peso dagli il peso sopra dagli il peso sopra un tiazzare dagli il peso gira il mento verso l'alto dagli il peso colandero lo togliamo togliamo il colandero che ha preso la gamba preso sulla gamba ancora Davide ancora di nuovo verso via su via su via su gira la faccia adesso gira dai 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 ginocchia ginocchia via dall'angolo Davide devi andare in dominanza forza adesso te adesso te ginocchia continuo prediputi dominalo manca un minuto finisci lì finisci ginocchiano non lo parlo da via ginocchia e spinti rimettiti come lì prima forza lui è solo spinto fino adesso ha solo spinto rimettilo come lì prima attento che hai unito le mani ti attra la gamba si gollè mettili in peso bravo giragli in mento giragli in mento tira su quel mento tira sul mento ancora tira che ha perso la presa ancora forza Davide non ti far fare il tento ancora picchia prendi i punti così ancora dagli peso e picchia dagli peso e picchia cinque secondi stai attento quello che sto a fare stai attento se fa solo quello bravo prendi i punti gioca lui sta solo spinto alla gamba fa solo quello sulle mani sulle mani stai attento non vuole fare quello uno, due il destro giro 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 ecco adesso ginocchiano ginocchiano sinocchiano Davide presi i punti sinocchiano forza come nel sacco come il sacco lavorano cambi gamba dagli peso forza Davide ma non leggerlo palle alle palle l'ha presa porca pucca davide dai dai ancora e faccia prima boxalo Davide dai sempre non mi ha così vedi sempre lì così destro sinistro anche la zappa così è la mano bassa Davide alla destra ancora esplode esplode in momento giusto stai dentro e strolla stai dentro e strolla dai che va vicino dai 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 adesso vai dai adesso subito subito le ginocchiate le ginocchiate ecco una andata un'altra ancora le ginocchia togli le dita la gamba ancora presa e ginocchia forza ecco le ginocchia sono punti ancora domini le ginocchia ancora così ancora al te tira sulla testa sulla testa sulla testa e ginocchia fase postura usa gli altri ginocchiano forza tira sinistro luce un minuto Davide un minuto un round è tuo ginocchiano un round è tuo ginocchia e salì non lo fa uscire tira sulla testa postura usa la testa stiamo sempre a lei di vista ancora vai vedi taglia Davide ancora ancora ginocchiano chiedono lì fino alla fine 30 secondi Davide ancora ginocchiano ginocchiano taglia le ginocchia con sinistro così che è entrato ancora con le ginocchia Davide vai avanti 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 dai 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 sottotitoli 30 secondi Davide e insi da lì usa le gambe basse adesso vieni subito e lì e ci moschiano con calma domini e ginocchia testa di restare da su da su la testa così e il fegato ancora goccia e il fegato goccia e il fegato ancora tieni sulla testa rimanda la stessa dai che è costo dai che è costo vai picchia adesso picchia veni in fu picchia in faccia Davide e calma non ti può trasfare non calma stai vincendo picchia in faccia picchia così ancora puliti libero e strazzi e picchia libero e strazzi e picchia vai 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 ancora tutto il mio lo tengo così è nato è nato Davide stai tendo di passo o quello può fare continua continua ancora stai vincendo ancora ancora vieni da lì stai tendo di passo pose pose ancora così l'abbiamo lavorato su quello stai tendo le 10 stai tendo stai tendo così manca un minuto ancora d'altro pochino picchia così ancora uno due tre e vai metti giù il culo giù il culo stai tendo di passo stai tendo di passo altrimenti un minuto pose pose non lo stai il culo metti giù il culo metti giù il culo metti giù il culo metti giù il culo vedi che ho tolta schiacciate la gamba adesso schiacciate così vai adesso vai dai tu col culo non dico ancora non dico che stai dicendo non dico che stai dicendo usa con gli ammer altra cosa vuoi ammer ancora altra ammer con me e lì lo vedi Davide Davide matta 10 secondi 10 siamo con gli alpine continuo con gli ammer sotto e sopra sotto e sopra 10 vai 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 ancora al gal 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 Grazie a tutti